La stazione è retta, gambe leggermente divaricate, mani sui fianchi, inarca la zona lombare, cedi piegando le gambe, mantenendo il busto eretto, spalle aperte e risali, sempre tenendo la posizione eretta. Associamo la respirazione, inespira, scendi, quando risali, espira, fuori l'aria dalla bocca. Di nuovo, inespira, distendi le gambe, espira, scendi fino a quanto puoi, cercando un angolo al ginocchio di circa 90 gradi. Fai attenzione sempre alla colonna lombare, devi tenerla sempre estesa. Puoi aumentare il numero delle ripetizioni, aumentando la frequenza, tieni sempre associata la respirazione. Oppure, se ti senti stanco, puoi limitare la frequenza delle ripetizioni, oppure fermarti. Fai sempre attenzione alla colonna lombare, che deve rimanere inarcata con i glutei in fuori. L'esercizio è terminato. Dalla stazione seduta, gambe distese, mani avanti, allungati il più possibile tenendo le ginocchia distese. afferra la parte più estrema e ti aiuti flettendo il busto in avanti il più possibile. Tieni la posizione, devi sentire un allungamento dietro la coscia e sulla schiena. Non piegare le ginocchia. Mantieni. Lentamente ritorna alla posizione di partenza. Lo stretching è terminato. Tottomomomomomomomi Tottomomomomi Tottomomomomoma Tottomomomomi Grazie a tutti